gentili telespettatori buona giornata il compagno della boschi la parlamentare d'italia viva si vaccina e il web insorge così giovane com'è possibile lui l'attore giulio berruti classe 1984 è finito nel mirino del popolo del web per aver ricevuto il vaccino giulio berruti ha scelto di condividere questo suo primo passo verso l'immunità pubblicando lo scatto dell'iniezione sui social come fanno in tanti che spesso poi è controproducente stessa cosa che ha fatto scansi ed è sparito dalla televisione molti dicono ma cercatelo con chi l'ha visto perché è sparito ma come spesso succede in questi casi il post ha dato via libera le critiche lui è il compagno della boschi comunica ai suoi fan di aver ricevuto la prima dose di vaccino astrazeneca nelle prime ore della giornata un momento importante che l'attore ha sfruttato per lanciare un messaggio chiaro ai suoi sostenitori vaccinatevi senza paura la pubblicazione della foto che lo immortala mentre offre il braccio all'infermiere per ricevere il vaccino ha però scatenato qualche poelemica beato te scrive qualcuno a noi poveri comuni mortali ci vaccineranno nel 2000 e mai l'italia è un paese di medici e vecchi ma come mai un under 40 non medico insegnante lo ha potuto fare un altro scrive come mai sei così giovane e già lo hai potuto fare il vaccino domande alle quali berruti non ha replicato ma diciamo che molti molte persone in vista non replicano perché semplicemente non si mettono a leggere migliaia di commenti ci sono chiamiamoli vip chiamiamoli così che vanno a leggere messaggio per messaggio che si mettono gli ore a leggere tutto quello che scrivono degli sconosciuti sotto il loro posto che secondo me è una sciocchezza totale totale e come voler entrare nella mente di tutti gli italiani cosa pensano di te dire no ma tu perché pensi male non puoi piacere a tutti quindi se vai se vai andare a spulciare migliaia di commenti per trovare qualcuno che ti critica c'è qualche problema hai qualche problemuccio la maggior parte dei delle persone in vista hanno il loro profilo lo seguono un certo numero di persone scrivono i loro posto e poi non gli passa neanche per il cervelletto ad andare a vedere cosa scrivono degli sconosciuti di sotto quindi quando si dice berruti alle domande non ha replicato è perché probabilmente manco le ha lette ma a farlo ci hanno pensato alcuni suoi seguaci hanno risposto per lui dice non cominciamo a pensare a favoritismi se l'ha fatto è perché rientra in una categoria particolare l'attore che il prossimo 27 settembre compirà 37 anni è laureato in odontoiatria e ha un suo studio dentistico in centro a roma per alcuni il fatto di essere un medico oltre che un attore di cinema e televisione gli avrebbe consentito di ricevere il vaccino prima di altri lui è anche odontoiatra quindi credo che sia stato chiamato per questo motivo lo ha difeso un un utente il motivo reale per il quale giulio berrutti riuscito a vaccinarsi non è però stato chiarito ma altri seguitori fans sarebbero per altri sarebbe da ricondurre al fatto che l'attore ha una patologia reumatica l'interprete soffre infatti dai anni di una grave forma di fibromialgia che potrebbe averlo fatto inserire di diritto nella categoria dei cosiddetti fragili che possono ricevere il vaccino prima di altri nonostante i vari chiarimenti qualcuno non ha mancato di polemizzare sulla sua vaccinazione lo conosco come famoso attore non come medico sinceramente io personalmente non lo conosco non ho mai visto una sua interpretazione e neanche mi interessa sinceramente che sia medico ma lui ha uno studio ma lui svolge l'attività di dentista o è laureato in odontoiatria e tiene uno studio ma lui non ci lavora voi sapete che sono stati chiamati a vaccinarsi anche molta gente che non esercita la professione che magari medico però esercitava non esercita più naturalmente quelli che hanno ricevuto la chiamata nessuno si è tirato indietro mi chiamano sì perché sono un medico però stai facendo altre cose però mi hanno chiamato è difficile che ci sia qualcuno non conosco nessun caso di persone che abbiano detto no non ci vado non mi spetta no abbiamo visto in italia che su 11 milioni e mezzo forse 12 milioni di di vaccini fatti ci sono circa due milioni e mezzo di di truffatori del vaccino li chiamano furbetti i gli immorali del macci del vaccino quelli che sono passati davanti a tutti gli altri addirittura poi faremo un altro video dove ci sono più ventenni vaccinati che ottantenni poi direte ma è possibile e sì è possibile in un'italietta come questa tutto è possibile ci mancherebbe altro che ci facciamo mancare anche i truffatori del vaccino gli immorali del vaccino quelli che hanno pagato per farsi fare il vaccino prima con i soldi con il potere con l'amicizia vi ricordate quel medico diceva portate tutti anche i gatti io vaccino chiunque quel medico che gli avevano dato le fiale e si sentiva potente il salvatore porta 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 anche il gatto che io vaccino anche il gatto può essere che probabilmente qualcuno ha vaccinato anche il gatto è probabile che qualche gatto sia stato vaccinato nulla di male per i poveri mici però insomma forse prima del gatto andavano vaccinati gli ottantenni che dite siete d'accordo o no va bene io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuito siamo anche in facebook e nell'altro canale di youtube teleitalia seconda rete come dicevo l'iscrizione serve solo a far salire come visibilità il canale quindi vi invito ad iscrivervi anche a teleitalia seconda rete e a facebook i video di teleitalia teleitalia seconda rete dopo qualche ora vengono poi messi anche su facebook in modo che lì li possiate condividere con chi vogliate poi nella community ci sono a volte sondaggi a cui potete partecipare e commentare ci sono anche gli abbonamenti al canale cosa sono gli abbonamenti al canale sono qualcosa in più sono un aiuto al canale e hanno dei vantaggi con l'abbonamento da un euro potete vedere i video ore prima che vengano pubblicati per tutti io li registro e poi li scagliono per tutto il giorno con l'abbonamento da un euro li potete vedere prima quando li carico direttamente mentre ci sono poi c'è anche l'abbonamento da 2 euro 99 con il quale potete vedere dei video che sono destinati solo a chi ha questo abbonamento grazie a tutti e buon proseguimento di giornata